Tanto perché il tempo è tiranno, ricominciamo la seconda volta, sperando che nessuno ci devasti i testicoli, i... eh? Parlavamo di capanne prima, adesso... Vizio Tom, di qualsiasi altra cosa... Ma non ci interessa più... Rialzeriamo tutto, alzerate tutto anche voi... Per chi non lo sapesse... Ci siamo, ci stiamo, avvicinando ai 300 iscritti... Attenzione, attenzione... Abbiamo superato le 20.000 visualizzazioni, quindi dobbiamo semplicemente e desplicemente dire grazie, no, dire grazie, quantomeno dire grazie, perché c'è gente che ci sopporta e ci supporta, giusto? E noi non ho ricevuto minacce di morte, io... E questa è già una gran cosa, questa è già una gran cosa, no, più che altro sappiate che quello che facciamo, alzerate tutto, è per fare piacere... Direi che c'è nell'eternità... Mi fai finire un discorso per fare piacere a voi. Adesso comincio io per evitare che tu, visto che se in vena di idiozie, possa continuare. Creature Arcane, Flashbook numero 13, va bene? Ok, e doppietta, oh poveri noi, numero 6, sempre Flashbook, vai! The Boys, il numero 39, ci avviciniamo sempre di più alla conclusione, attenzione, attenzione... Mi intrometto con una ristampina per quanto riguarda Berser Collection, serie nera, il numero 8. Eh, bello, bello. Poi abbiamo Darth Fener, eh, lo so, lo so, o Darth Vader, che dir si voglia, il numero 6, anche questo numero è uscito con la doppia cover. Le ho fatte vedere bene un te due, yes man! Poi il 64esimo numero di Naruto, il mito, eccolo qua, 64, sette numeri di distanza dalla serie nera, che ha un numero dalla conclusione. Quindi continuiamo con The Goons, il numero 13. Io qui devo fare un appello alla Panini, mi ristampate il numero 1, per favore? Cioè io non posso... Sarebbe cosa gradita. Oh, è colpa mia che ho perso il primo numero, ma io vorrei rileggermelo cortesemente, se ristampate il numero 1 fate contento. A me e sicuramente tanta altra gente, sicuro, eh, ma so sicuro, sicuro, sicuro. Fesseggeremo in piazza, come la vittoria dei mondiali. Però, questo è un titolo che mi interessa, solo la prima parte però, perché per colpa tua, perché per colpa tua, è sempre colpa tua, mi batte il cuore, no, perché proprio no, anzi, semmai, cioè, mi se blocca proprio in un attacco cardiaco devastante, va bene? Questo comunque è il numero 1, ed è una mini di 5. Lo sai che fai col dottore di animazione? Sempre Planet Manga. Poi abbiamo Ultimate Spider-Man, numero 36, Ultimate End, la fine. Ma finirà, ma chi lo sa, boh, le battaglie sono tante e vieni sempre avanti, macchina gigante. Qui torna ogni tanto, ricompare il buon Embalming, arrivato al numero 10, sempre Planet Manga. Poi abbiamo Miracle Man, il capitolo 2 della seconda serie. Sì, del signor Gaiman, eh? Yes. Mark Buckingham. Palace. Buckingham Palace, sì. Astero... Adesso ditemi che non ci ho tanta pazienza. Va bene. Il nuovo numero di Asteroide Argo, va bene? Sergio Bonelli, editore. A proposito, Sergio Bonelli, editore, c'è una notizia da dare. La mini di 6, che si chiama UT, che vede i testi di Paola Barbato e disegni quel mostro di Corrado Roy, segnerà un evento per noi fumetterie perché uscirà in contemporanea in edicola e in fumetteria e in fumetteria sarà un'edizione speciale perché avrà una variant cover e che vedrà un disegnatore diverso ogni albo e in più conterrà 16 pagine in più di editoriale e contenuti speciali. Quindi un bravo alla Bonelli che ha scoperto finalmente il valore e il potenziale di noi fumetterie. Ci ha messo poco. Ci ha messo il tempo che ci doveva mettere, che te devo dire? L'importante è che l'abbia capito. E notizie delle notizie, siano tutti invitati naturalmente sabato 27 qua al Forbidden Planet, non nella Batcaverna ma proprio nel negozio perché dalle 16 ci sarà ospite Libermeco. Tutti dovreste sapere chi è Libermeco. Ricordiamo quella più imminente del 6. Aspetta, prima fammi finire il discorso perché 27 Libermeco verrà a fare una sessione di autografi per presentare Suiciders, che sempre per l'occasione godrà di un'edizione speciale proprio per questo mini tour che sta facendo, perché andrà anche a Trieste, Napoli e credo Milano. E poi il 6 c'è anche l'incontro con tutti gli autori di mostri, tra cui Maurizio Di Vincenzo e il nostro amichetto Valerio Giangiordano. Quindi grande giornata al Forbidden per tutti i grandi e piccini. A questo punto proseguirei, se no mi scappa il treno e io poi de meno. Mi facci proseguire per la Panini Comics abbiamo Uber che arriva al numero 3 ambientato nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il fumetto più utiato dai tassisti. Ti è piaciuta questa, eh? Vabbè ce l'hanno tutti con Uber, in Francia le sono mosse e anche... No, vabbè scusate, è una battuta. Io me ne vado, eh. Snowpiercer 2, numero 2, la conclusione di Terminus, va bene? Se no, altrimenti, io ti dico una parolaccia, Wunderwaffen Davide, va bene? Va bene, va bene, abbiamo Planet Hulk, il numero 2, dopo l'inizio di Secret War. Yeah, poi abbiamo invece Barba Nera, editoriale Cosmo, il re dei pirati. Il prezzotto dovrebbe essere scritto qua sotto, 6,90€ contenuto come si supponeva a colori. Poi abbiamo Winter Soldier nel vuoto. Secondo Paperback. Secondo Paperback, no? Yeah, 14 flowering. Un Dilan Dog 353V potrebbe interessare, questo numero palindromo, il generale inquisitore. E ti ho sputato, lo so, ma era voluto. È stato bellissimo, abbiamo Jupiter Legacy, numero 1. Cioè un certo Mark Millar ai testi e un certo, io lo adoro, cioè io, Frank Whiteley... Che gli devi dire, Frank Whiteley? Che gli devi dire? Niente, lo adoro, punto. Lo adoro? Che gli devi dire a Frank? Poi ricomincio, è il giorno della marmotta, ricomincio, no? Possiamo vedere qualcosa, almeno qualcosa gli potranno dire quando lo incontrano. È spettacolo, beh sì, non hai preso una vignetta un po' così, però vabbè. Riproviamo, bang, ragazzi. Decisamente meglio, decisamente intensa. Puoi chiudere per non urtare la sensibilità dei fanciulli. 16€. E ve lo pagate 16€ e ve lo portate a casa. Poi abbiamo Topo Storie numero 22, Genio Low Cost. Ecco, Davide appunto, però è il tuo fumetto, va bene? Ma è solo la prima parte. Devi levare solo Genio. No, adesso rimane solo il Low Cost. Continuiamo con una ristampa di un titolo, insomma, da leccarsi i baffi, ovvero Monster, ristampa del volume 9, che è quello che chiude la serie. Yes, questa è la Deluxe. Poi l'emblema di Rotto Perfect Edition numero 5. Continua con le ristampe e questo è un altro grande classico Akira, il numero 4. 15€, volume gigante. Questo albo vale l'intera trasmissione, ma in tutte le trasmissioni che abbiamo fatto in realtà erano funzionali alla presentazione di questo albo. Finalmente riesce Raph, del maestro Mitsuru Adachi. Guardate, ecco, l'edizione cicciottella. Se ricordate, la vecchia edizione erano prima delle sottilette e poi furono trasformate in storie di cappa leggermente più ampie. la copertina è, diciamo, come Masonicoco, quindi è un po' ruvida, ecco, con le bandelle. Guardate che bello, c'è anche qualche tavola a colori. No, non l'ho vista. Forse è in mezzo. Però, c'è, il formato è delizioso, leggibilissimo, cioè non potete perdere, è l'unico manga che io abbia mai letto due volte. Due volte lo leggerò. Mi trovo che abbia mai letto in tutto. Che abbia mai letto. È l'unico manga che io abbia mai letto a letto, tra le altre cose. Va bene. Non ricordo quanti numeri saranno, forse, no, meno di 10, mi sa. Ve lo farò sapere. Sì, non è una serie lunghissima. Ve lo farò sapere perché erano 14 nella vecchia edizione, ma comunque erano sottilette. Forse sei. Poesia, sentimenti, umorismo, il maestro Mitsuradashi è qui dentro e qui dentro c'è l'essenza del manga, l'essenza del fumetto. Ma parlava di aeronautica, no? No, parlava di nuoto. Sette euro, ragazzi, da avere assolutamente. Un consiglio anche per Federica Pellegrini, visto che lei è una nuotatrice, dovrebbe leggerselo. E poi continuiamo con Spawn, il numero 141. Bem, poi My Hero Academia. Eccolo qua, due cover, una da 4,30€ questa e una da 4,90€ quest'altra con sopra copertina. Uno dei manga più attesi nel 2016, ce lo propone la Star Comics. Ricordiamo, sono sei volumi al momento in Giappone ed è lo stesso autore che ha pubblicato Crazy Zoo qua per la GP Publishing. Che in Giappone comunque è uno pure dei più venduti. In assoluto. Che io lo sappia. In assoluto, sì, sì, verissimo. Compete con One Piece, anche se ovviamente One Piece è ancora inarrivabile. Vabbè, sono trassa tutti, 3 milioni di copie, ma quando lo raggiungi? Però questo si dà da fasta sopra le due, mi sembra. Continuiamo, abbiamo il nuovo numero di Devil, i maestri del Kung Fu. Yeah, Master of Puppets. Così mi è uscito. E numero 45 di Fairy Tail. Poi abbiamo per la Panini, Disney Frozen, il numero uno. Sbenebem, terzo numero di World Trigger. Quale è in usa? Terzo numero di World Trigger, il penultimo albo che presento io. E poi abbiamo Magnus, la compagnia della forca. Aspetta, metto un... Ecco, sì. Voilà, 28 euro per la Panini Comics. No, è la Lizard. Era Lizard, va bene. Grizoli Lizard, yes. Ha avuto un momento di debacle. Però non è detto una cavolata perché la Panini lo pubblicò in un altro formato, anni addietro. Ma lo sapevo, realtà. Tu non sapevi niente, non sai neanche che è la compagnia della forca. Tra le altre cose, chi in libreria non ha Raph e non ha la compagnia della forca, peste lo colga, naturalmente. E può pure andare a casetta. Va bene? Il ventaglio scarlatto numero 6, io la chiudo qui. E io chiudo tutto con Ratman Gigante numero 24. Benissimo, le notizioni e le sgarzoline ve le abbiamo date, sicuramente ci siamo scordati qualche cosa. Ma capita sempre. Abbiate, portate pazienza. Guardate queste facce, d'altronde che dovete fare? Solo pazienza, se vuole. Miau. Tanto.